Ecomondo 2024, ci troviamo all'Innovation District, il cuore dove le start-up, le aziende, le istituzioni possono confrontarsi. Ovviamente adesso diamo parola a una delle start-up presenti, ringraziamo Giorgio per essere qui con noi. Ciao Giorgio, grazie. Allora, raccontiamo la tua start-up, visto che sei il CEO. Sì, ecco, la mia start-up nasce con l'idea di lavorare nel mondo dell'economia circolare, della sostenibilità e per questo è diventata una vocazione, per cui aiutiamo le aziende a diventare sempre più sostenibili, andiamo a recuperare il waste e quindi cerchiamo di riciclarlo all'interno dell'azienda o valorizzare quel che è un rifiuto, ma oltre a questo interveniamo anche sul loro processo produttivo, per cui lo rendiamo più sostenibile e addirittura in molti casi andiamo a produrre dei nuovi prodotti da mettere sul mercato sempre con l'idea della maggiore sostenibilità ed economia circolare. E questo ci ha permesso anche di presentare molti brevetti e ottenere molti brevetti. Cosa significa per te essere presente a Ecomondo? Ecomondo è sicuramente un'opportunità, perché si incontrano diverse realtà che hanno un solo focus in questo momento che è quello della sostenibilità dell'economia circolare, per cui è un incontro multidisciplinare perché ci sono tante entità di diversi settori che si incontrano per uno scopo comune, e quindi diciamo che arricchisce tutti. Certo, per unire le forze. Allora Giorgio, che Ecomondo vi possa portare fortuna per crescere sempre di più e soprattutto godetevi questa manifestazione. Buon Ecomondo, grazie Giorgio. Grazie a voi per l'intervista.